Quindi noi ora vi racconteremo cosa abbiamo scoperto, ma siamo sicuri che c'è dell'altro. Ci vuole raccontare, perché questa sera viene svelato un segreto della Santissima Annunziata. Se è un segreto, ce lo vuol dire qual è? Come abbiamo detto poco fa nella conversazione, il bellotto ci ha svelato la via del carro o del trono che il mistico compie per unirsi alla sfera del divino, avvalendosi di tutta una dottrina ebraica scritta nel Talmud e che lui simbolicamente ha rappresentato su quel portale.